Ok, buona a tutti e ragazzi, qui Koto Oggi siamo con la seconda prova di registrazione 60fps, spero funzioni, allora qui dovrebbe andare tutto normale Allora, la prima prova non è andata benissimo Perché, insomma, qui non ha, non so se è un problema, insomma, di rendering Cioè che deve andare sempre, ecco